Solo un pezzo di figata che è, primo quarto su Radio Basket Italia, signori, alle 14.08 di questo martedì 20 febbraio 2024, siamo tornati sulla radio migliore di tutto il panorama radiofonico italiano, l'unica radio che vi parla di palacanestro H24, 24-7, ma in realtà non è vero perché vi parliamo di musica, di rap, di gossip, di Sanremo, parliamo di tutto, tranne che di basket, probabilmente. Esatto, parliamo, pensa che parliamo anche dell'NBA e del calcio, no, ci ho detto che non parliamo di basket, parliamo di NBA e del All-Star Game, è vero, è vero, parliamo anche di NBA e non è basket, fino alla finale. Ho detto, guardo, la guardo, perché così se dobbiamo dire qualcosa, dopo cinque minuti da quattro già mi ero rotto i maroni. Eh beh, è giusto. E dire che ho detto, ma era figo che c'è Donchis con gli occhi. No, ma è giusto, è giusto rompersi le palle per me, guarda, ti dico, ti dico la verità. Scusami, senti a parlare di record di canestri con 200 euro, tipo, e guardi quella roba, dici neanche gli Allem Globetrotter. Sì, è vero, è vero, è giusto, è giusto rompersi le palle per lo Star Game, ma quest'oggi, signore e signori, caro Notaio e tutti gli amici a casa, parliamo di basket vero, perché prosegue il nostro post-Cuppa Italia, la nostra settimana post-Final 8. Tiriamo fuori altri temi rispetto a quelli di cui abbiamo parlato ieri, ieri ci siamo concentrati soprattutto su Milano, ai quarti semifinale, soprattutto in finale contro Napoli e su Napoli, che la Coppa Italia l'ha vinta, come era giusto che fosse. Abbiamo parlato tanto, forse troppo, di Virtus durante No Look Live con Matilde Venturi. Proverò a ritirare fuori solo qualche concetto riguardo ai bianconeri felsine in questa puntata, ma non sarà l'argomento principale, la tematica principale che andremo a trattare. Andiamo a trattare invece nel percorso di tutte le altre squadre. Ci tengo particolarmente a fare due commenti negativi, uno su Brescia e uno su Venezia, e ci tengo particolarmente a fare invece un commento sia positivo che negativo, per certi versi positivo, per altri, guardando il bicchiere a mezzo vuoto, riguarda la Una Hotels Reggio Emilia. Questi sono gli argomenti principali, ovviamente scriveteci, io vi ricordo il numero per interagire con il sottoscritto, la trasmissione e tutte le trasmissioni di Radio Basket Italia, al 35156-94955, in alternativa ovviamente i commenti sotto le live di Instagram, Facebook e YouTube. Con questa miss ultra elegante, così come praticamente ultra elegante lo sono tutti i giorni, io inizierei trattando della grande delusione numero 3 di queste Final Eight. Di Milano abbiamo parlato ieri, durante primo quarto, e non look live. Della Virtus tratteremo un po' più tardi quest'oggi, e abbiamo già parlato tanto ieri a non look live con Matilde Venturi, della Germani-Brescia, ancora non ha parlato nessuno. E quindi andiamo a trattare dei bianco-blu, allenati da coach Alessandro Magro, che hanno fatto la classica figuretta di C, non di FI, come direbbe Ernia, ma di C, come direbbe il sottoscritto, perché uscire con Napoli ai quarti di finale non era certamente nelle più rose aspettative della formazione lombarda. Che cosa? No, dico di no. Io ho sentito la trasmissione di Manuel ieri. Non so se hai sentito... Di Manuel Ferdalisi? No, 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 Manuel Manuel, il nuovo di Real Olimpia Milano. Ah, sì. E Maggi adesso farà Real Virtus Bologna, e quindi adesso... E sì, non era il massimo... Il top è stato, secondo me, la disamina di Guazzoni. Penso che una roba più negativa di questa non ci potesse essere. No, io devo dire che sono rimasto particolarmente deluso dal percorso in queste Final Eight del poi, col senno del dopo Coppa Italia, del post Coppa Italia, ovviamente mi interrogo sulla squadra che ha eliminato Brescia, di cui abbiamo trattato ieri, e quindi di Napoli, e dico se Napoli non avesse superato Brescia non sarebbe riuscita a completare una rimonta pazzesca in semifinale contro Reggio e non avrebbe vinto una finale pazza contro Milano, laureandosi per la terza volta campione di Coppa Italia e portando a casa una specie di miracolo sportivo che è accaduto tra le mura della Inalpi Arena di Torino. Quindi alla fine è andata bene così, abbiamo vissuto la magia partenopea, abbiamo vissuto la magia Napoli, proprio perché Brescia, ai quarti di finale, si è fatta battere. È una Brescia che però non è riuscita a controllare, nemmeno per un secondo dal mio personale punto di vista, proprio tutto l'andamento dell'incontro. Io ho visto una Germani assolutamente succube dell'avversario a livello tecnico, a livello ritmico, a livello di intensità nel corso del match e anche un po' a livello fisico. Avevamo visto una Brescia molto pimpante nelle ultime gare di campionato che hanno preceduto poi l'inizio della Coppa Italia, della Final Eight. Avevamo visto una Brescia assolutamente superiore ad ogni tipo di avversario dal punto di vista atletico. Nicola Chele partiva in quintetto e si stava trasformando in un giocatore finalmente continuo e che in Italia, nel suo paese natale, poteva insomma mostrare quelle che sono le sue doti fisiche, qualitative e oltre che tecniche. Avevamo visto un Kenny Gabriel subentrare e cambiare delle partite. Avevamo visto l'alternanza tra Miro Bilan e Michael Cobbins che era riuscita molto molto bene, in realtà dall'inizio dell'anno fino proprio alla serata di giovedì, alle 20.45 quando Brescia è stata sconfitta da Napoli. Avevamo ammirato ovviamente le doti tecniche, il talento, l'estro di Massimburg e di CJ Massimburg e di Emedeo della Valle. Avevamo apprezzato John Petruccelli soprattutto in difesa. Ecco, di tutto ciò in Coppa Italia si è visto poco, è rimasto poco. E la Germani come spesso capita, lo devo dire, in uno scontro diretto del genere a metà della stagione che spezza un po' il ritmo con invece la parte dell'annata che ti sta andando meglio, che stai conducendo meglio, che nel caso di Brescia è il campionato, perché Brescia è prima in solitaria, più due dalla Virtus.a seconda. Ecco, come spesso capita in uno scontro diretto che arriva in un momento del genere, in un'altra competizione, a metà di una stagione, rompendotela in due, cadi. Cadi fragorosamente. Quella di Brescia è una brutta caduta. Dal mio punto di vista, ripeto, non tanto per essere uscita con Napoli, anche perché le aspettative sulla Germani erano totalmente diverse e il percorso che immaginavamo avrebbe potuto fare, la formazione di Magro, era un percorso molto più glorioso nella nostra testa. Insomma, sarebbe dovuto essere un qualcosa di meraviglioso che avrebbe potuto potenzialmente portare Brescia addirittura in finale battendo la Virtus nel secondo atto della competizione. Poi in realtà non c'è andata neanche la Virtus, c'era Reggio ad attendere Brescia o Napoli in semifinale. Quindi, insomma, è successo un po' di tutto. Però, però, Brescia non ha mostrato nulla, nemmeno a livello di controllo della gara. Ed è questo che più mi ha deluso. Avrei preferito una sconfitta di Brescia all'overtime con un tiro pazzo di Tyler Ennis all'ultimo secondo e invece non è assolutamente accaduto questo. Per chi ha visto la partita, Napoli ha controllato l'intensità dal primo al quarantesimo minuto. Poi ci sono stati momenti, come capita in ogni gara, di difficoltà e altri, di fluidità di gioco e maggior sicurezza, insomma, nel attuare il proprio piano gara da parte della GV Basket di Igor Milicic. Ma il denominatore comune, il fattore comune di tutti i 40 minuti, di tutti i quattro quarti, è stata una Napoli che ha controllato il ritmo della gara. E a me questo di Brescia non è piaciuto. Io credo che in casa Bianco Blu a questo punto urga una riflessione su quello che può essere il percorso da qui alla fine dell'anno della squadra e sui momenti in cui non concedere all'avversario nemmeno il solo pensiero di poterti battere. Io dopo aver visto come è andata la vicenda a Brescia in Coppa Italia ho tanta paura a ritrovare la Germani ai playoff e scudetto. Perché giocando ogni due giorni, stancandosi, non avendo più quel maggior atletismo, quel vantaggio di atletismo e fisicità rispetto agli avversari, magari non subito dai quarti ma dalle semifinali, dalla serie di semifinale ed essendosi sciolta Brescia davanti al primo vero appuntamento dell'anno io mi sono fatto delle domande e non so se sono stato l'unico così come me le sono fatte su Milano così come me le sono fatte sulla Virtus. Ovviamente chiedo anche a voi se me le siete fatte al 351-56-94-9555 e anche scrivendo nei commenti sulle dirette social Instagram, Facebook e YouTube perché secondo me ha bisogno di una riflessione come Brescia ha affrontato la Coppa Italia e il quarto di finale tra Germani e JV Basket. Io non vorrei che quella paura di vincere, quella disabitudine al successo lasciate stare che Brescia l'anno scorso abbia alzato la Coppa Italia ma è comunque una disabitudine la Coppa Italia era il primo storico trofeo messo in bacheca da Brescia nella sua storia cestistica quindi l'abitudine a livello di ambiente la disabitudine a vincere a livello di ambiente di giocatori di roster e di allenatore che da capo allenatore in Serie A non ha mai vinto niente c'è ed è ovviamente anche abbastanza palpabile visibile all'occhio nudo di chiunque vada poi a commentare le gesta della Germani ecco questa disabitudine e questo scioglimento di fronte al primo scoglio netto e deciso della stagione a me ha messo parecchi dubbi non tanto a livello tecnico sulla squadra io a livello tecnico penso che la Germani già dalla prossima partita di campionato sfruttando anche la sosta nazionale potendosi allenare per due settimane in palestra possa ripartire molto molto bene ma quanto più a livello fisico e mentale cioè se Brescia non arriva dominante a livello fisico ad una serie playoff rischia di perderla e non solo se l'affronta mentalmente in down la perde questo è credo il primo dato quasi certo che abbiamo raccolto sulla Germani dopo queste Final 8 non sto dicendo che Brescia uscirà per forza ai quarti di finale dei playoff scudetto come è accaduto due stagioni fa ad esempio la stagione scorsa la stagione scorsa no perché non arrivarono ai playoff alla fine avendo il problema della doppia competizione ed essendosi sciolti prima ma due anni fa Brescia arrivò da grandi outsider ai playoff scudetto e poi perse 3 a 0 se non erro la serie dei quarti di finale no non è vero l'ha perse contro Trento forse per 3 a 2 3 a 1 insomma non mi ricordo comunque cadde in quel momento ecco non vorrei che quest'anno accadesse la stessa cosa non sto dicendo che succederà ma non vorrei che accadesse perché ho visto proprio una Brescia poco incisiva nel momento in cui invece bisognava mordere bisognava incidere vai Notaio se ci sono dei messaggi no mi stavo addormentando perché la news è che ho letto adesso che è arrivata adesso è iniziato a pesaro raduno azzurro Pozzecco entusiasmo e concentrazione va bene salutiamo già Marco Pozzecco tra l'altro no mi hai dato un bel link caro Notaio cosa di Pozzecco è un bel link o della nazionale no della nazionale per ricordare che in settimana appena avremo finito il post gara generale il post coppa Italia generale tratteremo anche di nazionale commenteremo nuovamente le convocazioni di Pozzecco anche perché Pozzecco ha fatto la lista ma non dei dodici ha fatto la lista generale del raduno poi ci saranno da scegliere dodici ragazzi per la prima gara contro la Turchia in Italia a Pesaro giovedì alle 20 e 30 e dodici ragazzi per la gara a Zombateli in Ungheria contro l'Ungheria di domenica alle 18 quindi avremo modo di commentare di nuovo la lista più ampia poi le convocazioni per la Turchia poi la gara contro la Turchia venerdì visto che l'Italia gioca giovedì sera e faremo il prepartita invece giovedì alle ore 14 sempre a primo quarto poi con la Mati stiamo già preparando qualcosa sulla Nazionale per la puntata di venerdì di No Look io non sono ancora pronto devo ancora riprendermi dallo Star Game giusto ci sta comunque abbiamo Fabrizio Servidio dice ciao Max io te l'avevo previsto che Napoli avrebbe battuto Brescia è vero è vero Fabrizio lo aveva detto però Fabrizio io perdonami la tua ovviamente il tuo pronostico è stato rispettato e quindi questo a sua volta va rispettato cioè il fatto che tu l'avessi detto io francamente però penso che tu fossi uno dei pochissimi ad averlo detto che tu sia stato uno dei pochissimi ad averlo detto ma per il semplice fatto che per la condizione fisica e psicologica in cui Brescia arrivava alle Final Eight non credo fosse pronosticabile una vittoria di Napoli io credo che chi ha pronosticato la vittoria di Napoli non sto parlando per forza di te in generale chi ha pronosticato la vittoria di Napoli lo abbia fatto un po' per seguire quel mantra che da anni passa da generazione in generazione passa ai microfoni di tutte le radio di tutte le tv e dalle penne di ogni giornalista e cioè che in Coppa Italia può succedere di tutto e quindi secondo questa legge marziale per cui in Coppa Italia può succedere di tutto diciamo Napoli contro Brescia così come diciamo Pistoia contro Venezia a lei in realtà si è capito da queste Final 8 che i motivi sono altri per cui in Coppa Italia può succedere tutto non è che la Coppa Italia è un posto magico in cui non viene rispettato quello che è stato fatto in stagione fino a quel momento semplicemente se ci arrivi scarico mentalmente scarico fisicamente e gli avversari riescono a controllare il ritmo nel corso della gara tendenzialmente perdi tra l'altro non è che Napoli poi non abbia più controllato nemmeno una gara perché in finale contro Milano è stata la stessa a GV Basket comunque a dettare l'intensità della partita quindi Napoli ha fatto una signora Coppa Italia proprio a livello di preparazione tattica delle gare di scelta di ritmo scelta di velocità nelle giocate questo ha permesso di condurre le partite contro Brescia e Milano e questo le ha permesso di recuperare una partita che invece non aveva condotto come la semifinale contro Reggio perché io ero là dal vivo l'ho vista da vicino Reggio Emilia ha dominato per 38 minuti su 40 la gara contro Napoli poi Napoli negli ultimi due minuti di gioco ha fatto una super rimonta ha portato la partita all'overtime Reggio Emilia non aveva più l'inerzia della gara era scarica anche fisicamente Napoli ha dominato i cinque minuti extra è esistita solo la formazione partenopea in quei cinque minuti ulteriori però per 30 minuti su 40 contro Reggio Napoli ha sofferto e non ha dettato al ritmo nelle altre due invece sì è chiaro che se sei la Germani Brescia arrivi da una prima parte di campionato quella prima della Coppa Italia di quel livello di quel calibro e lasci totalmente il pallino del gioco agli altri hai deluso non solo a livello di punteggio finale di punti fatti punti subiti e tu vai a casa gli altri restano quindi poi la ciccia che rimane dopo la sirena finale della gara ma hai deluso anche e soprattutto dal punto di vista dell'espressione del gioco questo volevo dire Miro Bilan non è riuscito ad esempio per farvi semplicemente un nome all'interno di un sistema che non ha funzionato non è che non hanno funzionato le individualità non ha funzionato il sistema Miro Bilan che non riesce a prendere vantaggio a livello non solo fisico ma anche di capacità ed esperienza nei movimenti e tecnica contro Tyne Coens francamente spiega un po' quello che è stato Brescia-Napoli in tutti gli altri ruoli Napoli con giocatori meno esperti probabilmente meno maturi e certamente in alcuni ruoli meno tecnici si è comunque imposta dal punto di vista della maturità dell'esperienza e della tecnica ci sarà un motivo e il motivo è che Brescia in questa Coppa Italia a me ha deluso e non poco io l'ho definita la terza più grande delusione perché la prima è Milano per forza di cose dopo la finale persa la seconda è la Virtus a pari merito con Milano perché uscire ai quarti contro Reggio è comunque essere alla pari di Milano come figura fatta a Torino la terza Milano è andata più avanti però ha buttato una partita che non avrebbe buttato neanche il navile però loro le prime due partite le hanno controllate comandate stracomandate no no è vero ma guarda io posso essere d'accordo che la Virtus sia una delusione maggiore di Milano secondo me prima della finale era ovviamente Virtus qui come delusione Milano non ci si avvicinava dopo la finale di Milano Milano si avvicina di tanti gradini alla Virtus comunque considera che Napoli giocava col sesto e settimo uomo cioè il sesto uomo era davanti e il settimo il settimo erano i tifosi bolognesi salutiamo l'Olimpia Milano da Bologna direttamente assolutamente no tra l'altro i napoletani giocavano con l'ottavo uomo che erano quei pazzi che si sono fatti avanti indietro 800 chilometri per quattro giorni di fila per essere nel settore ospiti dell'inalpi arena di Torino erano più di tutti gli altri tifosi di tutte le squadre probabilmente più di quelli di Milano e Virtus messi insieme senza nulla togliere la curva della Virtus e la curva di Milano più di Milano e Virtus messi insieme ogni giorno che giocava Napoli erano lo stesso numero con la stessa voglia di fare la stessa gaggia sì alcuni ha preso lo tetto o abitavano a Torino o hanno preso l'hotel che lavorano in Fiat però caro il mio bel notario Provini quando 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 passi i quarti di finale torni a casa poi se passi anche la semifinale prendi l'hotel e il weekend lo fai a Torino ma non è che dal giovedì alla domenica rimani lì quindi ci sono dei pazzi che hanno fatto 800 chilometri su e giù tra quarti di finale e semifinale quindi tra il giovedì e il sabato è stato un qualcosa secondo me incredibile cioè io raramente ho visto squadre così lontane fare quei chilometri lì e macinare quella roba lì vabbè insomma loro sai che sono persone di cuore sono persone di cuore per le loro cose il loro sport ci tengono giustamente sulla passione sportiva danno dei chilometri al nord lo so io che non seguo il calcio comunque i video del The Champions a Napoli visto dal Vesuvio con i sismografi che si muovono nel calcio non ne parliamo neanche assolutamente ci sono altri messaggi carnotaio? sì la mia compagna che scrive ma sei terribile chi è la tua compagna? ah scusami credevo la tua compagna dicevo la mia compagna magari non lo so era Matilde Venturi invece la tua compagna intendevi compagna di vita proprio ah ok sei terribile non so cosa ho fatto sei terribile perché hai detto hai messo la canzone dei napoletani forse per questo ma non è di Lucio Dalla che è di Bologna che è di napoletani non mi ha messo forza Napoli no vabbè però voglio dire l'hai messa in un momento è stato il pensiero di tutti i bolognesi che i bolognesi ti favano Napoli beh ma ovviamente a fine partiamo cioè secondo me c'erano più bolognesi che napoletani guardavano la partita saluto la compagna del notaio Fanzulli che ovviamente non avevo collegato nella frase ma che conosco e abbraccio fortemente e allora andiamo avanti tra l'altro la mia più grande fan la compagna del notaio la mia più grande fan è per delle ore una voce pazzesca pazzesca ma tra l'altro cioè se voi facciamo anche delle sedute private di colloqui no praticamente adesso con quello che clona la voce la cloneroper poi quando ci troviamo in intimità va bene va bene mi fa sto per vomitare posso dire sto per vomitare allora Fabrizio Servidio la pressione da detentore del titolo sempre penso riguardo Brescia guarda ti dico sì ci può stare assolutamente effettivamente Brescia rispetto allo scorso anno non arrivava da outsider quest'anno e questa era una grande differenza proprio in apertura di competizione definire pressione quel sentimento e sentore che hanno tutti che tu potresti andare più avanti rispetto a quella che era la previsione dello scorso anno mi sembra eccessivo cioè la pressione ce l'avevano Virtus e Milano per giocarsi la finale tra di loro per dircela schietta schietta Brescia non aveva neanche la pressione delle prime due c'era ancora Venezia dentro la competizione perché il mercoledì sera Venezia aveva battuto Pistoia ed era andata in semifinale quando ha giocato Brescia la sua gara quindi francamente sì pressione maggiore rispetto all'anno scorso ma in generale con insomma facendo un confronto con le altre squadre che davvero avevano dell'ansia nel giocare della pressione seppur lieve nel giocare di Coppa Italia del tabellone Brescia francamente non era secondo me parificabile a Milano e Virtus poi è chiaro che se arrivi da vincitore con l'ansietta tra mille virgolette di dover mantenere il titolo all'interno della tua bacheca questo è assolutamente un dato reale da registrare per la Germani non credo a livello mentale abbia inficiato più di tanto sull'insuccesso della Germani a me Brescia è parsa scarica a livello di motivazioni io ho visto una squadra lottare molto meno dell'anno scorso avere molta meno caparbietà e abnegazione nell'andarsi proprio a prendere i canestri nell'andarsi a prendere le palle vaganti nell'andare a contrasto nel cercare i contatti ho visto una Brescia che ha provato ad attuare il proprio piano gara pulito libero come Alessandro Magro ti fa giocare quando ha visto che Napoli controllava il ritmo non ha neanche spinto troppo per riportare l'inerzia del gioco dalla sua parte è stata dietro a Napoli perché chiaramente Brescia anche non giocando benissimo dietro a Napoli ci riesce a stare per la differenza di valore e di qualità in campo poi però quando c'era da stringere nell'ultimo quarto Napoli ormai aveva preso fiducia e arrivederci grazie se la squadra di Igor Milici prende fiducia lo sappiamo tendenzialmente la partita l'hai persa se nel quarto quarto sei sotto e Napoli è 30 minuti che ti controlla la gara questo è secondo me ma a parte Fabrizio Servidio che chiudeva dicendo con uno Zucic da 5 punti ovvero nullo e la domanda mia è quindi negli eventuali playoff scudetto io dico sempre eventuali sì assolutamente perfetto di Virtus e Milano chi ti preoccupa di più a sto punto Brescia o Napoli nessuna delle due Venezia perché Venezia? io sai che Venezia pensavo che in realtà facesse lo scherzo no io per un attimo ci ho pensato contro Milano l'avevo vista neanche troppo male contro Pistoia ma evidentemente era l'avversario che non è riuscito a mettere quello stacolino quella difficoltà ad alzare la sticella la Reier e quindi insomma aveva dominato i quarti per un attimo ci ho pensato poi ho visto l'inizio della gara e fin dalle prime battute quando Venezia non riusciva proprio a leggere il movimento del pallone la circolazione del pallone sul perimetro di Milano mi sono detto Venezia se non cambia proprio la capardietà con cui preme sul perimetro con cui preme oltre l'arco per la riconquista del possesso tendenzialmente questa partita la perde la persa male e così apriamo il secondo tema di giornata bravo che mi hai dato il link e bravo anche insomma Fabrizio che ha aperto tutto questo messaggio senza scaletta senza scaletta siamo veramente meravigliosi oggi andiamo proprio di improvvisate di menu stilato al momento al momento e no apriamo il secondo tema che riguarda appunto gli oro granata a me Venezia preoccupa in ottica playoff perché su più gare anche se approccia male la prima può trovare degli aggiustamenti tra le varie partite che con un roster di quella qualità potrebbero voler dire maggior difficoltà per l'avversaria nello svolgimento della serie quindi man mano che le partite vanno avanti in Coppa Italia tu sei one shot hai una possibilità se sbagli la preparazione o l'approccio a quella partita quella partita l'hai persa sei fuori dalla Coppa ai playoff scudetto non succede questo le serie sono al meglio delle cinque da una vita ai quarti in semifinale anche in finale quest'anno perché Gandini ha voluto ricordare in conferenza a Torino che quest'anno le finali saranno a cinque al meglio delle cinque non al meglio delle sette che probabilmente rimarranno così per un altro paio di stagioni almeno fino alla fine del suo mandato e anche oltre quindi finale uguale a quarti e semifinale ma al di là di questo Venezia se mettiamo caso dovesse incontrare Milano o la Virtus però facciamo Milano così viene il paragone con la Coppa Italia visto che si sono affrontate in Coppa Italia le due se dovesse affrontare Milano in una semifinale playoff mettiamola giù in questa maniera e dovesse perdere male la prima come ha perso in Coppa Italia nella seconda se Spaglia capisce gli errori ed è bravo a capire gli errori della sua squadra nella prima gara quello che non ha funzionato in gara 1 in gara 2 tu affronterai probabilmente una formazione molto più tosta molto più consapevole di quello che c'è da fare di come limitarti non ne parliamo poi se a gara 3 il campo sarà quello di Venezia quindi dovrei andare in trasferta a giocare a casa della Reier io credo che potenzialmente Venezia sia più pericolosa di Brescia un po' perché più forte io continuo a preferire il roster di Venezia a quello di Brescia un po' perché più abituata a più impegni ravvicinati visto che Brescia non ha avuto le coppe quest'anno mentre Venezia ha giocato secondo me una discreta stagione in Euro Cup avendo il doppio impegno poi è uscita ma comunque il doppio impegno l'ha mantenuto fino alla scorsa settimana o quasi fino a dieci giorni fa e un po' la ritengo più pericolosa proprio per questo cioè perché potrebbe aggiustarsi nel corso della serie e crearti delle difficoltà secondo me contro Milano è accaduto è accaduto questo Venezia non ha avuto modo di reagire e non ha saputo reagire in fretta a quella che era una versione di Milano a cui ragazzi dobbiamo dircelo con tutta onestà nessuno era abituato cioè la Milano che abbiamo visto contro Venezia è stata forse esagero voi l'esagerazione mia solita forse la miglior Milano dell'anno cioè io una Milano così incisiva con condivisione del pallone così ampia da squadra da squadra bravo da squadra ma non solo con Venezia in tutte e due secondo me sì anche contro Trento però contro Venezia ovviamente ha fatto più impressione perché il valore dell'avversario è diverso e anche per lo scarto perché Milano non è che giocando di squadra ha vinto di tre Milano giocando di squadra ha vinto di più di 20 punti contro la Reier non sono i primi arrivati sul globo terraqueo a giocare a palacanestro sono una delle ultime ma una delle ultime più attrezzate degli ultimi dieci anni di Serie 1 LBA quindi parliamo veramente di uno scarto importante di una gara importante da parte di Milano e Messina lo ha anche detto in conferenza stampa post partita comunque Venezia in campionato è a pari punti con Milano assolutamente ma Messina lo ha detto nel post gara una delle nostre migliori partite anche rispetto al valore dell'avversario ed è correttissimo che il commento sia questo Venezia probabilmente non si aspettava questa condivisione del pallone e questo gioco così chiaro fluido da parte dell'Emporio Armani non ha reagito nella gara singola e se non reagisci nella gara singola in Coppa Italia e la gara la perdi sei fuori dalla Coppa Italia questo è il format di una competizione che si basa su scontri diretti è per quello che ti dico ai playoff scudetto in un format che non si basa su scontri diretti ma si basa su una serie al meglio delle cinque Venezia se correggere gli errori della prima gara dovesse andare male nella prima gara è potenzialmente molto più pericolosa di una Brescia che ti faccio un esempio magari arriva scarica perché in quel momento dell'anno ha terminato le energie oppure arriva pompatissima poi non è abituata al doppio impegno o a più impegni ravvicinati si gioca ogni 48 ore e si scarica la terza partita capito io vedo più una Brescia che esce 3 a 2 in un quarto di finale piuttosto che una Venezia che esce subito che ha troppe difficoltà a vincere contro Milano Virtus per me quest'anno le semifinaliste mi espongo saranno Napoli e Venezia se il tabellone lo permetterà ovviamente poi se si incrociano in un altro modo non so cosa dire però Venezia e Napoli per me saranno le due semifinaliste insieme a Virtus e Milano quella che beccherà Napoli vincerà 3 a 0 3 a 1 per me quella che becca Venezia rischia di andare a gara 5 io lo dico per me Venezia quest'anno la porta a gara 5 quella serie di semifinale beh dipende se Napoli becca Virtus dopo anche in trasferta avrà l'amuletto dietro è vero avrà un penerito più avanti potrebbe vincere effettivamente se Venezia arrivasse davanti a Milano col fattore campo magari potrebbe allungare io che Venezia vinca un tot gare contro Milano no vinca no vincerà assolutamente no la finale l'ho detto a settembre l'ho detto a febbraio sarà Milano Virtus se becchi delle squadre che te l'allungano e quindi ti stancano di più nel corso dei playoff con partite intense poi ci tenevo a dire perché siamo tornati su Milano dicendo Milano ha giocato una gara pazzesca contro l'Umana Reier e nessuno si aspettava quella partita lì da parte di una squadra che ha basato su individualità individualismo tutta l'annata e invece lì ha basato la partita sulla condivisione del pallone però scusami come ti dicevo io prima delle finali ti basta che quella sera non ti funzioni lo Shields e Milano ti dice tu hai finito i canditi però il discorso è Venezia pur non aspettandosi quella Milano lì in semifinale quella Milano così positiva comunque ha fornito una prestazione insufficiente cioè non facciamo passare la sconfitta di Venezia come un ma già Venezia è più scarsa di Milano perché io ho sentito anche questo ma già Venezia è più scarsa di Milano figurati se Milano quella sera gioca bene allora è ovvio che è un meno 20 no no perché farla passare così è far passare il concetto per cui Milano questa Milano può serenamente darne 20 a Venezia la verità è che Milano ha giocato una signora partita e che quindi avrebbe probabilmente vinto lo stesso magari di 7, 8, 10 punti ma Venezia ci ha messo del suo ci ha messo una prestazione orribile dal mio punto di vista soprattutto in fase difensiva e quindi Milano ha vinto di 20 lo scarto poi è una molteplicità di fattori cioè una concomitanza di fattori Venezia ragazzi ha fornito una prestazione che io in Coppa Italia dalla Reier non vedevo da un po' di edizioni da un po' di stagioni in difesa non ci hanno capito niente sotto canestro l'unico che ha provato a colpire con esplosività nel salto e cattiveria nell'andare al ferro a canestro è stato Fiundo Cabenghele che però si è spento nel corso della partita tessitori inguardabile Spissu sta underperformando da tutto l'anno così ho detto la parola preferita Spissu sono d'accordo tessitori e tessitori cioè nel senso lo sai che è così non puoi pretendere che faccia sì però tessitori non è neanche quello non è neanche quello Cabenghele a me è piaciuto molto come giocatore poi come di città a un certo punto è una gran presa Cabenghele il problema è che se è l'unico a garantire cattiveria agonistica in area c'è un problema tessitori non sarà quel giocatorone pazzesco a parte che comunque secondo me si sta meritando ogni chiamata in nazionale che sta avendo si sta meritando ogni minuto in Eurocup in Eurolega che ha avuto quindi è un giocatore comunque quadrato e poi non è quello che abbiamo visto contro Milano ragazzi contro Milano faceva fatica a girarsi in semigancio adesso va bene che non sarà Melli però tessitori non è quella roba che abbiamo visto sabato contro l'Olimpia secondo me Venezia ripeto è rimasta scioccata all'inizio da come Milano ha impostato soprattutto in attacco la partita non ha trovato spazi nella propria fase offensiva perché Milano si è chiusa molto bene ha stretto molto bene le maglie della difesa a quel punto è venuta un po' a mancare la fiducia Milano già è più forte ha giocatori più qualitativi è anche più fisica è più grossa risultato finale hai preso una marea di penetrazioni da Schiltz da Melli hai fatto fare tendenzialmente quello che voleva Mirovic che poi non ha neanche chiuso con troppi punti comunque non hai parlato degli ultimi tre stronzi no assolutamente no però se tu affronti una partita così contro Milano il meno 20 è il minimo che ti devi aspettare sì io ti dico allora si parla ovviamente a ragion veduta di Milano per le prestazioni che ha fatto quest'anno per l'Eurolega e tutto però devi anche considerare poi non succederà sicuramente io spero per Milano di sì ma non credo ma se Milano non si considera mai una Milano che giochi al pieno potenziale di quello che può fare perché lì penso che dia 20 a tutti e 10 e 15 c'è una Virtus bravissimo sono totalmente d'accordo e tra l'altro faccio mea culpa e dietrofronta allo stesso tempo e per quello che dico sull'Eurolega quando mi dicono a Milano ne vince Artot impossibile è difficile siamo d'accordo ma se trovasse quella quadra che purtroppo quest'anno non ha trovato c'è potenziale c'è tutto allora io ti dico faccio mea culpa e dietrofronta allo stesso tempo come stavo dicendo in precedenza perché questo è un qualcosa che ho sempre specificato molto poco e che invece hai fatto bene a specificare in maniera importante adesso perché è da specificare cioè Milano con le potenzialità fisiche tecniche di valore in campo che ha se condivide il pallone bene e se non si disunisce cioè se gioca da squadra nel momento decisivo non solo arriva ai play-in magari dice anche la sua ai play-in e in Italia vince lo scudetto in Crocs secondo il mio punto di vista tutti dicono che la Virtus quest'anno vale simile per me la Virtus quest'anno è inferiore a livello di uomini totalmente a Milano poi se vogliamo parlare del gioco probabilmente è superiore eh no cioè se tu guardi la situazione attuale siamo d'accordo che Virtus in questo momento probabilmente le dà a Milano io ti parlo di una situazione in cui Milano gira bene come deve girare col potenziale che ha bravo questa è una roba molto interessante sai però il dubbio che mi viene qual è che non ce la farà a fare questo tanto fine anno il dubbio è quello che Alessandro Maggi va dicendo poveretto da sei mesi cioè che Milano dopo un tot di partite buone si disunisce e non ha l'input comune non ha l'obiettivo comune non ha una visione generale di squadra dell'obiettivo è reale cioè Milano anche Messina ha detto facciamo due passi avanti e poi torniamo indietro è ma perché quando non riesce ad unirti attorno alle tue certezze a puntare all'obiettivo tutti insieme succede questo Milano fa tre partite buone in Eurolega poi magari perde contro Valencia in casa giocando quattro ultimi minuti terribili come è successo due mesi fa magari gioca quarti e semifinale di Coppa Italia da Dio come è successo l'ultimo weekend e poi gioca una finale da Wisp come abbiamo visto contro Napoli però secondo me è per questo che Milano non arriverà ai play-in e perderà anche la finale scudetto e sono d'accordo però ti dico anche un'altra cosa che è una sensazione mia se Milano in finale avesse avuto Virtus invece di Napoli le cose sarebbero andate diversamente probabilmente l'input mentale è certo e lì tirano fuori gli attributi e tirando fuori gli attributi anche se non giocano a squadra non sono particolarmente organizzati Messina non organizza tutto quello che vuoi ma ti possono fare del male con le singularità e qui arriviamo a quella che deve dopo poi quando vuoi ti leggo anche i messaggi perché li hai lasciati tutti indietro per tutta la puntata e qui arriva la bravura che deve avere la Virtus in finale scudetto in una finale scudetto eventuale che per me è ancora molto probabile tra le due squadre che è quella di non disunirsi quando vede che Milano davanti a un obiettivo più grosso contro una squadra che degli input mentale te li fornisce come la Virtus in una rivalità che negli ultimi anni è storica inizierà a giocare perché Milano inizierà a giocare questo mettetevelo in testa cioè quando l'obiettivo si fa tosto quando arrivano i playoff scudetto Milano passa in scioltezza secondo me i primi due turni poi arriva in finale con una carica di giocare contro la Virtus e salvare la stagione perché a quel punto si tratterà di salvare che secondo me non si salva ma di provare a tentare di salvare l'era Messina e la stagione che non ce ne sarà quasi per nessuno lì la Virtus dovrà rimanere salda sui propri concetti continuare a giocare come sa e provare di squadra invece a differenza di Milano a raggiungere quell'obiettivo che manca dal 2021 io ti dico in Coppa Italia ho avuto sempre la stessa azione di una Milano con i giocatori forti almeno contro Napoli e quali boh della Coppa Italia ne fregasse il giusto se trovi la stessa squadra in un playoff di Eurolega a cui tutti tengono perché tengono perché sia Mierotic che tutti tengono e non la Coppa Italia perché Mierotic penso che abbia imparato quest'anno che cos'è la Coppa Italia e che c'è la Coppa Italia secondo me anche in quella situazione sono dolori diverso allo scudetto ovviamente quello è il campionato e ci possono tener di più cioè l'idea era che boh sì vinciamo perdiamo ce ne frega il giusto concordo andiamo ai messaggi faccio solo uno topic veloce che ho letto adesso di Maria Zonia sempre più lontano dal Real pare che abbia rifiutato due offerte di rinnovo dal Real e dietro ci sia il Panathinaik eh sì ma è una notizia di un po' di tempo fa ribattuta oggi però è un qualcosa che si era già sentito come sirena di mercato da un po' e Zonia dovrebbe andare al Panathinaik però il Panathinaik è brutto no il problema è un altro che il Real per tappare il buco io temo stia puntando un giocatore molto vicino alle due torri ma questo è un altro paio di maniche di cui parleremo di cui parleremo poi più avanti non voglio scombussolare la testa di Virtusini quindi non andiamo a parlare del mercato del Real perché la stagione deve ancora non finire iniziare la sua parte più difficile io a quanto so ci sono tre situazioni un po' in bilico sì anch'io sono le stesse tre va bene vai 351-569-4955 ma io te l'ho messo in sovraimpressione che passa aspettate bravo allora Elio dice come direbbe l'idraulico buonasera benissimo salutiamo gli idraulici ed Elio esatto poi Franco Rossi dice buon pomeriggio buon pomeriggio anche a te ciao sempre Elio come non è un posto magico e tutti quei micado che apparivano all'improvviso da dove venivano è vero è vero tanta cioccolata Torino fate schifo perché nessuno di voi ha portato dei micado qua Fioravanti gli ha portati in Brasile la scatola intera Mario De Janeiro ma è atterrato sì sì è arrivato il sito stamattina era atterrato non lo facevano uscire dall'aeroporto benissimo godo e poi Francesca Frabetti dice scusate se torno alla puntata di ieri ma vi ho ascoltato in serata sì mi ha scritto anche in privato Francesca il nottaglio ha detto che prima di Virtus Reggio ci sono stati degli scazzi in spogliatoi mi preoccupa molto spero di aver capito male allora ne abbiamo parlato ieri anche a Virtus iniziamo noi dopo e non era cioè c'è stato un insieme di cose ma pare che diciamo il grosso sia risolto era c'era qualcosa della partita prima di cui abbiamo parlato con con Bobinelli con Monaco con Monaco di quel tiro con Belinelli e Lumberg Lumberg che pare eh sì Lumberg Belinelli che pare avere tirato giù una televisione sì ma è stato molto sulle palle aver perso contro Monaco e contro Reggio e quindi come sempre quando sta sulle palle perdere in uno spogliatoio i senatori o comunque i giocatori che possono permettersi di alzare la voce perché non tutti possono permetterselo quelli che possono farlo se la alzano ogni tanto la alzano verso propri compagni verso loro compagni oppure verso oggetti con le mani o ambiente circostante apparendo molto più nervosi di quello che in realtà sono io credo che Belinelli dopo aver rotto la tv sia tornato a casa abbia baciato in bocca a sua moglie e sia sereno come una Pasqua ecco questo è sì da quel che ho capito io sì la cosa che spaventava erano questa situazione cioè poi spaventava era un ragionamento non abbiamo i filmati di tv rotte o di giocatori che litigano altro è stato poi vedere la reazione che c'è stata di non squadra contro Reggio e poi dopo a me personalmente non sono piaciuti alcuni discorsi di tifoserie oppure sono usciti sul Carlino il problema dei capelli di Cordinier sono tutte cose che rischiano poi di andare un po' a scombussolare diciamo degli equilibri sì diciamo che in generale ieri Francesca ma l'avrai sentito se hai ascoltato il podcast come mi hai detto in privato parlavamo un po' di quello che può intaccare l'ambiente di come può intaccarlo e delle voci che hanno seguito l'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti contro Reggio di come queste voci possano aver influito sulla testa non dei giocatori non dello spogliatoio non dell'allenatore ma dell'ambiente è un ambiente che deve rimanere sano deve unirsi adesso attorno ai giocatori attorno ai propri beniamini per lottare tutti insieme verso un obiettivo che può essere Eurolega playoff play in scudetto quello che volete basta che un obiettivo ci sia e quest'anno ce n'è più di uno forse anche più dell'anno scorso e bisogna andare dritti al punto senza pensare a comunicati ultras piuttosto che capelli piuttosto che colore dei capelli piuttosto che televisioni rotte io credo che il periodo in cui sfogare la rabbia l'abbiano già esaurito anche i giocatori è finito per i giocatori è finito per i tifosi adesso basta altre dinamiche tanto voglio dire se speriamo che abbiano chiarito tutto in Porelli nei giorni successivi e la prova del 9 l'avremo contro Valencia quindi da Valencia potremmo poi farci un'idea o capirne magari di più speriamo ovviamente tutti che abbia avuto un effetto positivo questa batosta questo bagno di umiltà diciamo e quindi la squadra abbia capito che senza la squadra non si vince e quindi che tutti devono lavorare in determinata maniera da lì poi dopo si valuterà direi da Valencia vai Notaio poi Elio non dimentichiamo che Reggio era con soli tre lunghi anche sì Reggio era con tre lunghi per favore non torniamo sul discorso Zizi Notaio mi concedi un off topic di due minuti così per la prima volta nella storia chiudiamo tutti gli argomenti di cui volevamo parlare con cinque minuti d'anticipo quello che vuoi sulla Unautelsa Reggio Emilia perché è un po' passata inosservata la Coppa Italia di Reggio dal mio punto di vista io credo francamente che complici tutti i commenti sulla Virtus e badate bene non sulla partita non su Reggio sulla Virtus dopo l'uscita della Virtus contro Reggio e complice la rimonta pazzesca di Napoli in semifinale contro la stessa Reggio che ha fatto sì che tutti parlassero di Napoli nessuno alla fine ha parlato di Reggio Emilia invece secondo me va inquadrata bene la Coppa Italia la Final Eight che ha disputato la Unautels Reggio Emilia ha fatto questo miracolino qui adesso ve la racconto in poche parole il primo punto ha eliminato la Virtus mi sembra già abbastanza non credo ci sia bisogno di spiegare ulteriormente quello che è accaduto giovedì sera complice ovviamente una pessima prestazione e l'abbiamo detto è due giorni che lo diciamo della Virtus ma anche una buona ottima solida prestazione da parte della formazione bianco-rossa allenata da coach Dimitri Spriftis e poi è riuscita in questo secondo miracolo è l'unica se ci avete fatto caso che su tre gare che ha giocato Napoli ha dominato la GV Basket perché la prima gara Napoli l'ha dominata contro Brescia la finale Napoli l'ha dominata come ritmo, punteggio vantaggi contro Milano in semifinale è l'unica partita delle Final Eight in cui Napoli ha sofferto ci sarà un motivo e ve lo dico io c'è il motivo è Reggio Emilia cioè questa Reggio Emilia deve ripartire dopo una brutta eliminazione che fa rosicare fa mangiare i gomiti fa spaccare delle porte fa tirare dei pugni al muro perché è un'eliminazione che fa incazzare lo dico proprio con la parola che va usata una volta per tutte perché la Uno Hotels si è fatta rimontare più di dieci punti negli ultimi minuti si è fatta mandare all'overtime e poi è stata surclassata all'overtime quindi fa arrabbiare ma questa rabbia deve diventare forza per il futuro perché Reggio Emilia deve ripartire da tanti concetti che abbiamo visto nell'ultimo weekend sportivo negli ultimi cinque giorni di Final Eight è una Reggio che comunque ha saputo giostare molto bene i minutaggi dei suoi lunghi poi è chiaro che Priftis ha sbagliato a tenere in campo troppo faiet chillo contro Napoli quando avevano tanti falli hanno chiuso tutte e due a cinque falli è rimasto in campo solo Hotkins però però vai tu aggiostrarli quei tre lunghi lì senza avere cavi nervei e dovendo adattare Hotkins da numero quattro dovendolo adattare da la grande magari per qualcuno è una grande per me Hotkins è un cinque quindi per me è un adattamento a tutti gli effetti per caratteristiche che ha il giocatore e funzioni che ricopre sul parquet ma anche se per voi non fosse un adattamento così importante è comunque uno spostare un giocatore in un ruolo all'interno del quale fino all'addio di Kevin Hervé non giocava e quindi è molto complicato farlo e gestire questa alternanza di lunghi Priftis ha lanciato una volta per tutte io spero che non ci sia più nessuno che ha dei dubbi su un classe 2005 che ha dominato anche Tari Cowers per 38 minuti su 40 non solo Downstone Schengheglia Miki non Zizic perché non c'era scherzo e Polonara ma parliamo di un giocatore che ha del talento e soprattutto parliamo di una formazione Reggio Emilia che magari ha dimostrato di avere un po' meno di atletismo e di fisico rispetto a pari grado come Napoli ma più tecnica perché Reggio Emilia ha più tecnica di Napoli Reggio Emilia è una squadra più qualitativa più tecnica appunto con maggior estro offensivo non so come dirlo di squadra diffuso dai polpastrelli dei propri giocatori rispetto a tante altre squadre Michele Vitali è alla consacrazione a Reggio Emilia una volta per tutte Weber è un ottimo creatore di gioco dal punto di vista scusami alla consacrazione a Reggio Emilia ho detto alla consacrazione a Reggio Emilia cioè nella sua carriera è già stato consacrato da altre parti a Reggio Emilia quest'anno è alla riconferma dopo un infortunio lungo pesante ed è alla consacrazione perché Michele Vitali è fondamentale per questa squadra contro la Virtus e vi dico una bestemmia vi dico una roba che tre anni fa mi avrebbero appeso a un muro dopo una roba del genere Michele Vitali è molto più forte di Luca così la chiudiamo qua molto più forte più intelligente più talentuoso con più pulizia nelle mani con più tempismo nel tirare quando deve Luca è molto più confusionario forse più talentuoso nel senso di Luca quando stava bene giocava a Brescia clutch time spalleggiava sotto le gambe tirava e era sempre canestro in quel senso è stato più forte Luca nel momento migliore della sua vita io parlo dei momenti migliori di entrambi i fratelli quindi Luca a Brescia un po' di anni fa e Michele adesso o al massimo un anno un anno e mezzo due fa Michele è molto più pulito molto più tattico sa molto meglio come muoversi in campo a me Michele piace molto di più di Luca di quello che mi era piaciuto Luca è ovvio che il Luca di adesso gioca a Treviglio cioè voglio dire il Luca di adesso è un giocatore non giocatore per la Serie A1 però Michele è tanta roba Galloway è un fenomeno e credo si sia visto a più battute a più riprese e regge una squadra che non solo può puntare ai playoff ma può puntare visto che è il suo unico obiettivo stagionale a rompere le palle fortemente alla squadra con cui verrà accoppiata ai playoff io ci credo e penso che la Una Hotels abbia un signore allenatore sia allenata molto bene e abbia la possibilità di dire la sua anche in momenti più caldi della stagione mettiamola così vai con i messaggi allora Fabrizio Servidio dice c'è da considerare che sia Trento che Venezia non hanno playmaker che possono mettere in difficoltà né ai né ai peer né na peer né na peer dice che fa giocare meglio la squadra se non ha un difensore che lo limita sì però ragazzi scusatemi allora o siamo ciechi o abbiamo paura di dire che Marco Spissu sta giocando la peggior stagione da quando è un giocatore di basket no no ma Spissu da quando è tornato che è arrivato lì come si fa scusami Fabrizio io ti voglio bene ti ringrazio per aver già scritto una roba come otto messaggi Spissu ha dimostrato di essere un signor giocatore a suo tempo adesso quest'anno non ma scusatemi ma come si fa a dire il messaggio me lo rileggi a me sembra che giochi proprio contro cioè bu sembra il messaggio non dice che Venezia c'è da considerare che sia Trento che Venezia non hanno playmaker che possono mettere in difficoltà non è vero la pier che fa giocare meglio la squadra se non ha un difensore che lo limita non è vero adesso non ha quel giocatore cioè non è vero non quello che dici tu Fabrizio non è vero il concetto di fondo cioè Venezia ce l'ha quel giocatore lì è semplicemente che quel giocatore lì non sta rendendo lo Spissu che fece Pento nel coperchio a Sassari che venne chiamato da Malaga in Spagna quello lì cazzo lo limitava Napier ma parecchio se si fossero incontrati all'epoca ma anche lo Spissu che andò a Kazan alla fine che poi era lo stesso torno in Italia dopo Kazan un altro giocatore spesso in Russia è finito è finito io spero per lui anche perché ho avuto modo di parlarci a un ragazzo d'oro che amavo io in campo io mi auguro possa avere la possibilità di rifarsi partendo dalla nazionale da qui alla fine dell'anno perché ragazzi lo Spissu di quest'anno è inguardabile a livello proprio di gestione dei possessi di difesa sul perimetro e di prima linea prima diga difensiva per non far arrivare gli avversari velocemente al limite della linea dei tre punti o addirittura all'interno del pitturato cioè parliamo di un giocatore che dopo la Virtus voleva mezza Italia Spissu era in prestito alla Virtus per giocarsi la Serie A2 ed essere rilanciato a giocare perché a Sassari non stava trovando spazio poi Sassari se lo riprese di corsa perché Spissu lo voleva tutta Italia cioè quel giocatore lì non è quello che abbiamo visto quest'anno e Venezia l'ha preso ricordandosi del giocatore che era probabilmente non è più quella roba lì io spero lo torni secondo me Spissu l'ultima volta che l'hai visto è stato quest'anno in nazionale contro la Slovenia sì sì assolutamente e già lì andava comunque a fase alterne e infatti se ti ricordo ti parlo di partita non di periodo l'ultima partita che fece 20 punti o di più però già lì se ti ricordi lui era in un periodo difficile perché stava tornando dalla Russia e tutti dicemmo ah guarda Spissu ha segnato 20 punti tanta roba ultimamente non era stato così e questo fu il commento dopo la grande prestazione di Spissu in nazionale da lì tesseramento con Venezia sparito Marco Spissu non pervenuto quest'anno 22 punti contro Italia Slovenia il 9 settembre 2023 sì 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 mi ricordo non pervenuto quest'anno dopo dopo a me dispiace essere così duro però è una delle mie più grandi delusioni dell'anno quindi ci tengo al fatto che Marco Spissu giochi bene cioè Venezia ha preso secondo me un signor playmaker italiano facendosi un favore tra l'altro perché non ha nemmeno sprecato un visto per un playmaker statunitense per dire l'ha preso italiano l'ha preso forte e cavolo gioca però Marcolino cioè dai perché quest'anno si fa fatica se no secondo me sì sì stavo guardando un attimo le statistiche e Sassari aveva una media di 200 punti a stagione eh ma parliamo di un attore Cazzan 149 poi tutto il periodo di Venezia ne ha fatti 140 no aspetta scusami 132 allora ne ha fatti 132 solo in campionato anche in Eurocup in tutto il periodo di Venezia ne ha fatti 132 132 quante partite poi era giocato Venezia quest'anno tra 22 e 23 allora ne ha giocato a che giornata siamo di Serie 1 alle BIA 22 aspetta scusate quando è tornato da Cazzan quanto ha fatto a Venezia nel 22 no niente è tornato l'anno scorso a Venezia mi sto confondendo no mi dà 22 ma 2022 sì perché è partita la guerra e poi lui è tornato a stagione in corso hai ragione hai ragione va bene 132 132 sì punti ok con l'unix Cazzan nel 21 e 22 ne ha fatti 149 va bene contro nessuno praticamente parte Sesca e Zenit in Russia non giocava l'Eurolega Cazzan lì ha giocato l'Eurolega per 4 partite eh sì sì dopo è venuto via e con Sassari 892 punti dal 17 al 21 quindi sono 18 19, 20 24 anni più o meno più di 200 punti ma ci può stare ma io parlo neanche troppo di punti cioè io parlo proprio di partecipazione alla costruzione parlo di difesa parlo di affidabilità quando porta il pallone ma infatti io ti sto parlando di punti poi c'è tutto il resto che un playmaker deve fare assist è chiaro i punti magari non vanno neanche male e il resto io ti ho cercato la prima statistica dovrei andarti a vedere tutte le statistiche capito però per darti un'idea era quella anche perché comunque spesso anche come tiratore non era male ma per niente quindi adesso sembra spento cioè sembra che giochi spento sì davvero allora andiamo avanti eh sì Eugenio Elio dice il pano offrirebbe due anni a tre milioni a stagione a stagione a stagione però mi chiamare però io sono in Zonia corro però ragazzi parliamo di un giocatore che finalmente posso dire finalmente si merita ste cifre in Europa sì 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 giocatore d'accordo pauroso ma di Zonia pauroso tra l'altro e vabbè vabbè tu dici prima sì chi va a coprire Zonia vabbè va bene inizia per T e finisce per Occo forse se no inizia per S per Engheglia no o se no magari se non è Tocco può essere qualche altro quattro in giro per l'Europa non deve per forza essere Schengheglia Schengheglia da quello che so è una delle valutazioni che Real Madrid sta iniziando a fare questo è e per l'anno prossimo per l'anno prossimo Virtus ha il rischio di perdere Schengheglia Lumberg Abbas e poi forse mi sfugge qualcun altro dobbiamo metterci in testa tutti che Schengheglia è di un'altra cioè è un giocatore che non è così vecchio e ha ancora la possibilità di vincere dei titoli e ha una bella esperienza ha una grande esperienza ha vinto o meglio ha vinto a livello personale cioè si è mostrato come giocatore dominante in Eurolega con il Sesc ma soprattutto col Basconia e parliamo di un singolo che in questo momento per la qualità diffusa dei singoli di Virtus non ha senso a parte Marco Bellinelli e quest'anno Daniel Hackett Torniche Schengheglia che però è già dall'anno scorso e dall'anno prima che non ha senso continua a non avere senso in Virtus è un po' Schengheglia è possiamo dirlo credo senza problemi è il Zirkzee del Bologna cioè il giocatore che tutti vogliono che ti offrono delle badilate di grana per portartelo via ci sta guardi che badile ti arriva e quanta grana c'è su ogni badile e poi decidi quale badile prendere e quanta grana portare a casa cioè questo è più o meno però puoi dire anche considerare l'anno prossimo cosa fai in base alla grana che raccogli dal badile dopo decidi quanto reinvestire sul prossimo 4 no però dico se guardi le gare di quest'anno e ti torno a dire ti togli ti togli Lumberg e ti togli Schengheglia inizia a toglierti a bus sì sì è vero però no dici sì poi vai sul mercato ok con degli acquisti mirati e soprattutto tenendo banchi che per me è la prima cosa fondamentale da tenere ferma per sempre cioè per i prossimi due anni perché sennò un progetto tecnico non viene fuori se tu vuoi fare un progetto tecnico di due o tre anni tieni banchi ogni volta gli dai il mercato in mano ti fai fare le richieste da lui se si possono portare a termine le porte a termine se no niente se no troverai dei compromessi e a quel punto con il progetto di banchi magari mettendo il ritmo altri giocatori ti dirò il buco di Schengheglia magari lo tappi anche però ti dico anche un'altra roba su banchi che secondo me ok tutto bellissimo tutto è banchi è stato un po' diciamo fuori dagli schermi per un po' sì bisognerebbe andarsi anche a riguardare con le altre società perché e come è finita con banchi perché altrimenti avrebbero tenuto tutti gli altri e sarebbe assolutamente lui non è non è uno che ha rapporti spesso facili esatto il giorno che gli giovani prende ti saluta e trova da dire con la società prende ti saluta io non ho mai conosciuto un allenatore bravo ad allenare simpatico no no certo a quei livelli lì simpatico con il discorso e va bene no no ma simpatico anche con rapporti con le società eh lì però una quadra poi la devi trovare poi speriamo che vada tutto bene fino a posso dire se Pep Guardiola è andato via dal Barcellona e sono sopravvissuti e possiamo sopravvivere senza banchi secondo me Andrea Gardo Gardini dice una domanda sulla Virtus io ho detta sinceramente a Bass lo terrei eh anch'io il problema è poi vedere se lui rimane secondo me è molto completo come giocatore ma gli viene dato poco spazio sì e penso che lo pensi anche lui in difesa il più delle volte a parer mio è molto presente in attacco se si accende sono dolori quindi perché darlo via nel caso partisse chi potrebbe prendere il suo posto un abbraccio eh allora chi potrebbe prendere il suo posto io ce l'ho io un nome ce l'ho che può fare italiano? no no ma magari l'italiano vabbè ma scusami ma allora io non voglio però finire la puntata no 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 ti dico è un plus facciamo il mercato Virtus no 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 è un plus però il fatto che sia italiano io ti dico magari se l'italiano tu lo metti in un altro ruolo lì ti puoi permettere di prendere uno straniero certo ti serve un giocatore che faccia che abbia la mano da tre perché a Bass alla fine è un tre certo che abbia un po' di stazza perché a Bass comunque grosso che possa fare anche il quattro e che possa fare anche il quattro Andreis Grazulis tutta la vita ok tutta la vita Grazulis da Trento tutta la vita no la cosa dell'italiano era un plus cioè non è che deve essere per forza italiano però ne hai uno buono detto che io lo terrei anche io lo terrei detto che io lo terrei io lo terrei e gli farei in modo di dare più minuti poi sicuramente non è maturo come altri non è alle sue giornate è più incostante però secondo me ragazzi ma le pause nella stagione come quella che la Virtus vive adesso servono anche tra l'altro a Bass non parte nemmeno per la nazionale per fortuna servono anche per integrare quelli che fai giocare di meno io mi aspetto un Banky che al 29 di febbraio saprà giustare meglio le rotazioni Zizic Loma Shabass cioè mi auguro che lui studi in questo in questo periodo va in nazionale però ci penserà lo stesso alla Virtus poi tornerà avrà un'altra settimana di allenamenti insomma io mi auguro che Banky studi per bene come inserire nuovi tasselli o tasselli che adesso giocano di meno e capire come gestire meglio roster da qui alla fine dell'anno anche a Banky ragazzi va dato un attimo di tregua la Virtus o è in aereo o è in campo no no ma infatti quello è un problema il fatto che non si possano allenare è un problema allora poi Francesca Frabetti si concordo sul vostro commento su capelli e comunicati grazie della risposta prego figurati poi quando si potrà comunicare altre cose eccetera ovviamente le diremo assolutamente poi Elio Priftis ha rischiato di buttarla due volte la seconda c'è riuscito sì è vero tra l'altro sì Elio ne abbiamo parlato anche dal vivo Elio si riferisce alla gestione dei lunghi perché anche contro anche contro la Virtus c'era stato un problema del genere ed è stata scema la Virtus a non attaccare i lunghi avversari che erano in tre ma al di là di questo no a parte gli scherzi a parte il commento sulla Virtus però guardate cosa ha fatto Reggio contro chi ha vinto la Coppa Italia Reggio è l'unica squadra che ha messo veramente in difficoltà i campioni di Coppa Italia e quindi Napoli concordo poi Fabrizio Servidio io parlavo fisicamente Napier soffre i play grossi è che Napier soffre la fisicità è stato detto anche da Maggi è stato detto da diversi che quando prende due spallate fatte bene così lui si spegne e infatti se avete visto forse l'unica cosa che è rimasta tra Scariolo e Banchi hai notato qual è è che nei Virtus Milano tutti e due gli allenatori chiedono a Dacet di andare in post-basso contro Napier perché è ignorante no perché Dacet è il triplo Dacet è il triplo anche di stazza ma soprattutto di centimetri e Napier se gli tiri due cucci lui ti sta dietro la schiena tu dopo ti giri cadendo all'indietro tiri sei a dieci metri in più di lui quindi sì 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 poi più che altro dopo che gli dai due cucci probabilmente la terza volta dentro non ci va non ci pensa neanche sta lì buono sì sì quindi lo metti in difficoltà così poi Stefano Pistolato dice hai ragione su Spissu gioca a corrente alternata secondo me proprio non è neanche colrente alternata è proprio in down non c'è corrente al momento non c'è corrente sì ed è un grande spiacere vederlo così perché vedere un italiano che giocava col suo gas era un piacere sì concordo che tu fossi un avversario o fossi in squadra con terra concordo parecchio poi Filippo Baccolini Spissu sono due anni che purtroppo Falercio a Venezia è quello che stai dicendo tornato da Kazan spento è arrivato nel 22 nel settembre del 22 quindi ha fatto due stagioni quindi se in due stagioni fai gli stessi punti che hai fatto in una stagione a Kazan no neanche una stagione mezza stagione a Kazan prendesse il ritmo e invece mi pare che non lo stia prendendo ci vorrebbe uno come banchi per rianimarlo ci vorrebbe banchi ci vorrebbe forse spisso e beh allora ti leggo l'ultimo messaggio non è vero perché c'è anche Whatsapp che non l'ho neanche aperto non so perché scusate allora Elio scusate ma se il Fioravanto Zaurus Rex è assente potete potete spendere espandere approfittatene eh no ma non ci ha lasciato la sua carta e infatti il notaio adesso prenderà delle telecamere Sky da domani saremo in 4K versione Cinema HD con le Sony 4000 vai hai aperto Whatsapp ci sono 100 chat ho aperto no no dai va anche abbastanza bene allora Lorenzo Morini quello che dite su Milano è vero da tre in su il backcourt non mi ha mai convinto troppo non mi ha mai convinto troppo importanti le guardie nel basket di oggi ragazzi allora è vero però ma scusami Lorenzo però perdonami cioè ma va bene mettiamo anche che stiamo parlando da dopo l'arrivo di Napier perché prima di Napier c'erano Pangos e Maudolò posso capire cioè dall'arrivo di Napier il roster è negli uno dei due tu mi stai parlando di uno e due io ti parlo di uno e due Napier Maudolò Flaccadori Bortolani Tonut Baron scusatemi poi lascia perdere che Baron sia infortunato però Baron è infortunato perché hai della sfortuna non l'hai sostituito per tenere Pengos e comprarti Napier dopo che l'avevi mandato via quindi il fatto che Baron adesso non ci sia e che quel buco non è tappato è colpa dello stesso Milano c'è Devo Nol cioè di cosa stiamo parlando di che bacchetto di uno e due stiamo parlando stiamo parlando di Tonut cioè ve lo ricordate a Venezia Tonut cioè anche lui un altro che è arrivato a Milano spento non utilizzato dato poco male bene ma Tonut è l'ultimo ma poi Lorenzo credo voglia dire negli uno e due sono molto peggio che nei tre nei quattro e cinque ho capito Lorenzo ma una squadra è formata da uno due tre quattro e cinque quindi se nel tre quattro e cinque sono molto meglio della Virtus e sono molto meglio della Virtus nel tre quattro forse nel quattro no ma nel tre e nel cinque sicuramente sì con Shields Meldy Miro ho capito ma stai usando un Tonut come la Virtus usa Mascolo anche a parte a parte quello ma poi le squadre sono fatte da cinque cioè da cinque posizionamenti in campo lascia perdere i ruoli che non esistono più da cinque funzioni in campo se di quelle cinque funzioni tre su cinque Milano le ha meglio Milano è più forte della Virtus a livello di roster fine ma non penso ci siano problemi a dirlo cioè ti ho detto se Milano girasse da Milano ne prendono tutti almeno 20 forse la Virtus ne prende solo 10 o 15 no 15 no non sono d'accordo però 8 o 9 tutte le partite li prendi serenamente te ne accorgi comunque chiudiamo con Yuri che dice il Pana con Ezzoni e Tavares sì perché tra l'altro anche Tavares sta evitando di firmare c'è il voglino secondo me da parte di giocatori del Real dopo aver vinto tutto letteralmente tutto nella capitale spagnola di misurarsi con un'altra capitale un'altra grande città del basket intendiamo anche con una squadra NBA tutto tutto si hanno battuto anche Dallas e poi diceva sempre Yuri forse in Russia ha scoperto la figa e si salvi chi può va bene salutiamo Spissu la figa e la Russia allora tanto Fioravanti non c'è non ci ascolta quindi cavoli suoi i racconti di Fioravanti la conosceva già ve lo posso garantire salutiamo Marco Spissu le sue abitudini mondane il notaio Fanzulli che oggi ci ha assistito in maniera ultra pertinente grazie io ora ringrazio te invece per la presenza la disamina tecnica professionale spettacolo va bene grazie a tutti e la tua voce sexy da parte della mia compagna perfetto saluto anche la tua compagna che prima pensavo fosse Matilde Venturi ma questo è un piccolo dettaglio adesso andiamo giù a mangiare un pasticcino un caffè io ho fame sete e sono un caffè in omane salutiamo tutti gli amici a casa ci troviamo domani a partire dalle ore domani è mercoledì no 14 domani domani è mercoledì però il primo quarto vuoi sapere una bella cosa domani il primo quarto è alle 16 per quale motivo l'ho deciso io ho un appuntamento alle 2 per evitare di annullare la puntata tra l'altro ti devo dire una cosa io che stavamo parlando ieri con Zanetti adesso in diretta me l'ho detto in diretta così non puoi dire di no va bene e giovedì visto che non c'è fiora se per i pivot me l'aveva già detto allora ti sei grande ho già detto bene detto ciò se mi fai dire domani primo quarto è alle 16 tutti coloro che sono all'ascolto se lo segnino alle 2 ho un pranzo importante di lavoro non riesco ad esserci fai il post alle 16 ciao grazie arrivederò ubriaco domani ciao ciao ciao